La prima edizione del nostro notiziario, benvenuti a voi tutti ad Ora Tg, apriamo con la cronaca e con gli effetti della tromba d'aria di sabato sera su Catania, nel catanese detriti e devastazione al villaggio Santa Maria Goretti, a Catania, dopo la tromba d'aria che nella serata di sabato ha provocato ingenti danni di velti, pali ed antenne piegate e rami d'albero sparsi per strada, questo ancora oggi in quell'area di Catania. Vediamo insieme il primo dei nostri servizi. Squadra a lavoro stamattina nel villaggio Santa Maria Goretti di Catania per tagliare le cime più alte degli alberi ed eliminare tutti i fusti finiti in strada dopo il tornato di sabato sera, tutto intorno a detriti di ogni genere e sconforto della popolazione che ha visto volare via tecole e tettoie con ingenti danni alle abitazioni, attimi di paura, difficili da cancellare e la speranza adesso che le istituzioni predispongano interventi decisi per le necessarie riparazioni. Stiamo tutti mobilitandoci per riparare il tetto, riprendere quello che si può riprendere e poi si pensano anche alle auto distrutte, ai mezzi distrutti e comunque è stato devastante, è stato difficile anche rendersi conto di quello che è successo giorno per giorno escono sempre più cose da sistemare, vengono fuori sempre più parti della casa danneggiate come gli infissi, le finestre, la stessa muratura, il stesso esterno della casa in buone parti è saltato in alcuni punti, c'è chi ha avuto più danno, c'è chi meno, questa è la situazione, dobbiamo capire fin dove possiamo arrivare perché sicuramente da soli non riusciremo a fare tutto. Ancora abbiamo i detriti qua, se guardate a terra abbiamo i detriti dappertutto e nessuno è venuto a dire ma se piove qualcuno vi può aiutare per sistemare casa oppure siete a cielo aperto, nessuno è venuto. Avete avuto tanta paura, sono stati momenti drammatici? È difficile descriverlo, almeno non ho abbastanza cultura per descrivere ciò che ho provato in quei momenti, è totale impotenza, certezza dell'incapacità di poter fare qualsiasi cosa in quei momenti perché sei all'interno di un qualcosa che non riesci a comprendere ma ti dà soltanto tanta paura. Quali sono gli interventi che avete predisposto? Stamattina un ulteriore incontro con il Vice Sindaco, abbiamo determinato come giustamente concordato con il Presidente della Regione di fare un avviso innanzitutto con un numero di telefono e un'email dove tutti coloro che hanno avuto danni privati ed aziende potranno trasmettere dati anagrafici, ubicazione e soprattutto nome dell'azienda in modo tale che possiamo anche avere una idea di quello che chiaramente sono un quadro chiaro delle aziende e dei privati colpiti. Domani approveremo una delibera che chiaramente determinerà la richiesta dello stato di calamità che già il Presidente ha annunciato che accoglierà con grande piacere. Quindi gli utenti, loro che hanno avuto danni, avranno la possibilità di poter chiedere il risarcimento e perlomeno avere anche una boccata di ossigeno in un momento drammatico come quello che è avvenuto nelle scorse ore con una tromba d'aria che è a Catania, devo dire un fatto anche raro. Sono scoperchiati perché purtroppo il risultato di questa tromba d'aria è stato in effetti il forte vento che ha chiaramente portato e addivelto le tegole e quindi scoperchiato i tetti. Stamattina abbiamo fatto un sopralluoco anche con la IACP che sono i proprietari di alcuni immobili, altri sono di privati per fare anche un punto di quello che chiaramente sarà il quadro anche da punto di vista non solo economico ma anche della responsabilità e dei nominativi che abitano nelle abitazioni. La regione proclamerà lo stato di calamità naturale per i danni causati dalla tromba d'aria. Ieri sopralluoco del governatore Musumeci nel servizio anche il devastante vortice ripresa a distanza da alcuni cinematori. Vediamo insieme. Ecco il tornado che partito dal mare sabato sera si è abbattuto sul versante sud di Catania. La tromba d'aria ha attraversato causando ingenti danni i quartieri di San Francesco, l'Arena, San Giuseppe, l'Arena e Zialisa e il villaggio Santa Maria Goretti a ridosso dell'aeroporto. Tetti scoperchiati, alberi sradicati e capannoni rasi al suolo, carrelli dello scalo di Fontana Rossa trovati a centinaia di metri di distanza spazzati via dalla forza devastante del turbine. Sui luoghi colpiti si è recato per un sopralluogo nel pomeriggio di ieri il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Assieme a lui il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, il vice sindaco di Catania Roberto Bonaccorsi, il comandante dei vigili del fuoco Giuseppe Verme e il responsabile del corpo forestale della regione Luca Ferlito. Il maltempo ha colpito anche le province di Palermo e Ragusa, ma le conseguenze più gravi si sono avute nella periferia del capoluogo etneo, annunciata la proclamazione dello stato di calamità. Dobbiamo intanto procedere alla verifica e alla ricognizione dei danni. sono danni a civili abitazioni, danni ad aziende e danni a infrastrutture. Questo è un compito che svolgerà la protezione civile regionale in collaborazione con quella del comune di Catania e con i vicili del fuoco. Subito dopo procederemo ad una verifica degli interventi immediati da eseguire, soprattutto nelle abitazioni, per evitare disagi ai cittadini. Una stima dei danni molto approssimativa, almeno nella fase iniziale, e intanto la giunta di governo adotta la delibera per richiedere lo stato di emergenza dopo aver dichiarato lo stato di calamità. È un momento difficile, dobbiamo conviverci con questo cambiamento climatico ed è per questo che mai come in questo momento la protezione civile ovunque in Sicilia, a livello regionale, provinciale e comunale, diventa il primo obiettivo al quale deve guardare l'amministrazione pubblica per rafforzare le strutture in termini di risorse umane e in termini di mezzi e di risorse strumentali. Vigili del fuoco, uomini della protezione civile e operatori comunali al lavoro incessantemente, già ieri sera rimossa parte dei detriti che occupavano le strade ed eliminate le condizioni di pericolo accentuate dalla caduta dei rami degli alberi. Analoghi interventi sono stati compiuti al cimitero, oggi riaperto regolarmente al pubblico. È stato un momento di tensione perché la prima cosa che ci siamo preoccupati è visto un po' le conseguenze che c'erano in atto se c'è una persona coinvolta. Fortunatamente questo non è successo quindi poi ci siamo cominciati ad attivare per cominciare a togliere tutte le situazioni potenziali di pericolo. Abbiamo lavorato tutta la notte per poter raggiungere questo obiettivo ma ancora adesso abbiamo diversi interventi in coda. Da Catania ci spostiamo adesso a Giara e rimaniamo dunque sempre nella provincia etnea. Il racconto drammatico nel servizio che segue di una residente della palazzina di via Rovettazzo dove sabato è crollato un balcone sotto la furia dell'acqua e del vento. La palazzina è inagibile, 21 persone sono state alloggiate in albergo. La donna con le lacrime agli occhi alle nostre telecamere dice ci siamo sentiti persi. I panni ancora stesi ad asciugare il balcone al secondo piano di questa palazzina siamo in via Rovettazzo a Giara e ribaltato a terra i resti del parapetto. Appartamenti disabitati ma ancora da svuotare dopo il crollo avvenuto sabato durante il violento nubifraggio che si è abbattuto sulla Sicilia interessando anche questa contrada su cui insistono diversi alloggi popolari. Il nastro transennante vieta il passaggio, l'edificio dichiarato inagibile dei pilastri. È rimasto il ferro ed è così da molti anni. Il portico d'ingresso è avvallato. Questa pancia potrebbe collassare da un momento all'altro. 21 persone sono state allontanate, spostate in albergo. Il rischio di una strage è troppo elevato. Stamattina in fretta Luisa Caramma insieme al figlio ha raccolto i pochi indumenti. Lo stretto necessario ci racconta con gli occhi lucidi quegli attimi di terrore. Lei era al piano superiore solo per un miracolo. Non ci sono state vittime. La casa era messa nel letto e all'improvviso mi sono sentita a tremare il letto. Pensavo che era una scossa di telemoto. Invece non lo era perché abbiamo sentito le urla di tutto il palazzino e abbiamo verificato che mancava il balcone. Quindi praticamente la situazione è questa. Ci ritroviamo dal nulla ad avere tutto, a non avere niente. Sabato sono venuti i vigili del fuoco. Vi hanno detto che il palazzo è inagibile, dovete andare via. Oggi state raccogliendo le cose più importanti, ma avete una vita dentro la vostra casa. Sì, sono venuti i vigili del fuoco dove anche loro hanno ammesso che loro stessi hanno fatto quattro segnalazioni per queste palazzine. Quattro. Trascurati come se fossimo animali. Come se solo chi pagasse avrebbe la necessità di poter vivere. Io ora dico una cosa agli extracomunitari, io non ce l'ho con loro. Però non è giusto che a noi ci trattano da schiavi, da persone, da animali. Perché a noi non ci danno nessun aiuto. Non li portano in questi alloggi popolari. Li portano nell'abberghi, hanno tutto pagato. Non hanno pensiero di pranzo, di cena, di luce. E in più gli danno anche i soldi. E noi siamo trascurati così. Io finora non posso dire niente sul sindaco perché ci ha dato un tetto sulle spalle. Quindi non posso dire non ci stanno aiutando. Io parlo per gli alloggi, per l'Istituto Case Popolari perché se sarebbero intervenuti prima. Oggi non eravamo qua. Oggi eravamo ognuno nella nostra casa. Io ora non so rischio. Dopo anni e anni di sacrifici mobili, camere da letto, camere per i bambini, elettroni domestici, io non lo so più se me li posso dare a prendere. Non lo so più. E non ci rassicurano di niente. Tutto questo. Io oggi ho rischiato. Sì, ho rischiato. Ho venuto a prendere il necessario perché se mi danno una casa vuota che cosa ci devo mettere che non abbiamo nel tavolino, nel frigorifero? Niente. Non mi hanno detto che vi aiutiamo a fare un trasloco, a portare i mobili da qualche parte. No, per il momento ancora loro devono darci comunicazione. Nell'attesa siete in un albergo di Mascali. In un albergo. L'albergo ha le cose principali, diciamo, essenziali. Il letto, il frigorifero. Va bene così. Dalle cose che ci racconta è un miracolo che non ci siano stati morti. Sì, è un miracolo. Però se c'era la tragedia, era una tragedia già annunciata, avvisata. Questo qua già poteva succedere di tutto. Ci stanno bambini sotto, bambini in bambini. Ci sono due persone disabili. Due persone disabili. Cioè, poteva succedere di tutto. Le persone qua... Cioè, quel giorno ci ha salvato il brutto tempo. Il brutto tempo perché eravamo tutti in casa. Perché quel signore quel giorno del secondo piano crollava con tutto il balcone. Perché solitamente lui si mette in balcone, la persona del secondo piano. Sì, solitamente sì. Ha visto proprio il balcone ribaltato. Sì. È atroce. Io ora sto combattendo contro me stessa. Ma mi sento a morire dentro. Continuiamo con la cronaca, ma di altro genere. Cadavere di un uomo carbonizzato è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Giusti a Gravina di Catania, sull'opposto i carabinieri della locale compagnia. Un incendio nel cuore della notte ha seriamente danneggiato la chiesa Santa Maria del Rosario a Catania. Il rogo dovuto probabilmente ad un cortocircuito ha distrutto la statua della Madonna posta sull'altare centrale e ha annerito la cappella e le zone circostanti. Scoramento tra i fedeli. Vediamo. Paura nella notte in via Luciano Pavarotti a Catania, una parallela della via Palermo. Un incendio di probabile origine accidentale è divampato all'interno della chiesa Santa Maria del Rosario, creando apprezzione e panico tra i residenti in zona. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alle messe in sicurezza dell'edificio. L'intervento dei pompieri ha limitato le conseguenze del rogo, annerite gran parte delle pareti della chiesa e di alcuni locali attigui, mentre è andata completamente distrutta l'effigie della Madonna, particolarmente venerata dai fedeli. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero divampate a causa di un cortocircuito all'impianto elettrico. Abbiamo lasciato tutto a posto, tutto tranquillo ieri sera. Quando sono andato via verso le sette e mezza, otto, era tutto tranquillo. E stanotte invece il fuoco ha distrutto molte cose importanti dalla chiesa. Nel cuore della notte un rogo che è destato anche parecchia preoccupazione, le origini potrebbero essere quelle di un cortocircuito? Si presume un cortocircuito, sì. Non ci sono altre spiegazioni plausibili. Il fumo ha avvolto tutto, soprattutto è andata perduta l'effigie della Madonna. Questo è il dolore più grande, sì. Queste effigie della Madonna del Rosario, questo simulacro, che è stato venerato per più di cento anni dai fedeli di questo quartiere e anche di altre persone, è andato in modo irrimediabile e distrutto. I danni sono ingenti? Sì, i danni sono ingenti. C'è anche un danno morale, la ferita nel cuore di tanti parrocchiani che hanno purtroppo questo dolore di non poter entrare nella chiesa e non poter più vedere la dolce immagine della Madonna del Rosario. La comunità vuole subito ripartire, vi siete già dati da fare, allestendo anche una postazione di fortuna per dire messa. Stiamo utilizzando il salone parrocchiale che è di rimpetto alla chiesa che non è stato intaccato dal fuoco per utilizzare questo spazio per la celebrazione eucaristica. Devo dire anche che la nostra cappella dell'adorazione perpetua che è fuori dalla chiesa ma è incorpata nel locale della chiesa e continua ad essere agibile dal mattino dalle 6 fino alla sera prima del coprofuoco. La speranza è che adesso si possa velocizzare un intervento di ripristino di quanto è annerito? Sì, c'è il danno anche del fumo che ha annerito le pareti del locale parrocchiale anche se non sono state intaccate dal fuoco però sono intaccate dal nerofumo che li ha danneggiati. Cronaca ma di altro genere adesso, torniamo a Giarre. Si arrampicava per portare a compimento i furti in appartamento restato dai carabinieri della locale compagnia un ladro già etichettato come Spider-Man. Vediamo. A tradirli sono state le telecamere di videosorveglianza su via Teocrito e su via Gentile a Giarre dove la notte scorsa i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia hanno colto sul fatto Spider-Man, 31 anni, noto per la sua abilità nell'arrampicarsi sui palazzi e un suo complice, un 26enne. I due prima erano stati notati in questa stradina del centro storico avevano provato a scardinare l'ingresso di un'abitazione ma forse per il timore di essere scoperti hanno spostato il loro obiettivo qualche centinaio di metri più in là. Proprio su questa via che costeggia il teatro nuovo comunale è chiuso da anni i militari li hanno beccati al primo piano di una palazzina dove già Spider-Man era riuscito ad arrampicarsi i carabinieri giunti sul posto grazie anche a una segnalazione pervenuta al 112, il numero unico per le emergenze hanno prima ammanettato e bloccato il suo complice per poi pizzicare il criminale mentre era ancora intento a rovistare dentro i cassetti della camera da letto di questa casa gli arrestati in attesa del giudizio per direttissima sono stati trattenuti in camera di sicurezza Hanno preso il via le operazioni di recupero del materiale abbandonato nel fondale del porticciolo di Ognina a Catania tra materiale feroso e pneumatici anche una moto di grossa cilindrata scoperte però nel fondale pure carcasse di autovettore Hanno preso il via stamani le operazioni di recupero delle svariate tonnellate di materiale abbandonato nel fondale del porticciolo di Ognina a Catania le attività di pulizia coordinate dal genio civile affidate ad un'impresa specializzata andranno avanti per tutta la settimana in poche ore rinvenute diverse tonnellate di rifiuti compresa questa moto presumibilmente rubata i sub che hanno perlustrato lo specchio di mare del porticciolo hanno ritrovato semi sommerse dal terriccio del fondale anche due auto e rilitti di vecchie imbarcazioni colate a picco nel corso degli anni che compromettono le manovre di approdo dei grossi pescherecci e dei diportisti ormeggiati nei pontini privati a destare scalpore il numero eccessivo di pneumatici e materiale ferroso ritrovate sul fondo e recuperate in tutta l'area portuale dai sommozzatori nel sito di grande interesse turistico-culturale e riferimento della marineria locale le manovre di recupero limitate alla sola zona del Molo di Levante con l'ausilio di un questo braccio meccanico la cui manovrabilità è limitata a pochi metri dallo specchio di mare interessato sono state disposte dall'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone dopo l'attività di sensibilizzazione promossa da un gruppo di sub che lo scorso 9 settembre effettuare un'immersione di recupero di altro materiale che da anni giaceva sul fondale il porticciolo di Ognina è destinatario di un finanziamento di dragaggio e pulizia complessiva del fondale in cui l'accumulo di sabbia trascinata dalle correnti marine nel corso dei decenni ha ridotto considerevolmente la capacità di navigazione in tutta l'area portuale abbiamo trovato già motociclette, batterie c'è un relitto di un'autovettura che dovremo vedere come poter anche togliere più altri residuati di pesca più che altro lenzi, cime pneumatici pneumatici a non finire stiamo perlustrando proprio questo stiamo cercando di capire intanto la quantità e la diversità del materiale che c'è sul fondo da lì poi organizzeremo tutti i lavori compromette la navigazione con una vecchia imbarcazione che sarà più complicato andarla a recuperare? c'è un'imbarcazione soprattutto che in questo momento si trova proprio al centro materialmente lì vedremo come intervenire perché è un mezzo anche sequestrato quindi con problematiche di natura anche giudiziarie nel limite del possibile come lavori diciamo di somma urgenza stiamo cercando di togliere quello che è possibile il ritrovamento di questa moto risultata rubata ha richiamato l'attenzione della Polizia di Stato che ha recuperato il numero di telaio del mezzo a due ruote per installare a proprietario e a possibili azioni delittuose più complicato è il recupero delle due auto adagiatasi ad una profondità di circa 5 metri così come il relitto di un'imbarcazione di 8 metri circa e della più impegnativa barca a vela di 16 metri sequestrata anni fa dalla magistratura con un carico di droga a bordo è affondata per incuria a seguire le operazioni di recupero anche l'assessore al mare del comune di Catania Michele Cristaldi e il capogruppo di Forza Italia a Palazzo degli Erifanti Giovanni Petralia e a seguito di una segnalazione fatta dal gruppo consigliare a Catania di Forza Italia e quindi di conseguenza dall'assessorato al mare del comune di Catania la regione si è fatta trovare pronto per questa pulizia straordinaria che da quasi 30 anni non veniva fatta nel fondale del porticciolo di Ogna dalle prime ore di lavoro si capisce come purtroppo abbiamo a che fare con un'inciviltà diffusa considerando il mare quasi una discarica A settembre grazie all'opera di alcuni subvolontari avevamo acceso i riflettori sul caso relativo al porticciolo di Ogna in quell'occasione invitammo l'assessore Marco Falcone che aveva subito capito o percepito la gravità della situazione ci sono relitti, ingombranti, rifiuti che rendono praticamente impossibile la manovra per i numerosi pescatori della zona e quindi questo è un intervento che mira innanzitutto a mettere in sicurezza il porticciolo e a tutelare quindi un porto che rappresenta sia un valore aggiunto dal punto di vista commerciale ma specialmente anche dal punto di vista turistico Ed è stato presentato il calendario 2021 della Guardia Costiera sicurezza, bellezza, degrado ambientale, pesca, archeologia sono i temi scelti per raccontare il Mediterraneo italiano anche quello siciliano Il mondo sommerso quello del Mediterraneo che poi è casa comune di ogni italiano questo il tema del nuovo calendario per l'anno 2021 della Guardia Costiera presentato anche per omaggiare la componente subacquea proprio della Guardia Costiera che quest'anno celebra i 25 anni di vita ma la presentazione del calendario è stata anche occasione giusta per fare il punto sulla situazione del mare italiano compreso quello che bagna le coste siciliane nonché per parlare del futuro ecosostenibile del grande patrimonio dell'intera nazione Sì, quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della costituzione dei nuclei subacquei della Guardia Costiera una componente che ha determinato una crescita operativa importante per il nostro corpo sempre impegnati in operazioni ne ricordo alcune le operazioni durante l'evento della Costa Concordia ma anche nel 2006 le operazioni subacquee di monitoraggio di un grande inquinamento determinato a causa dei eventi bellici che colpirono il Libano in quel periodo e ancora la liberazione di Capodogli dalle reti che hanno tanto emozionato anche quest'estate molti telespettatori abbiamo quindi voluto raccontare questo mondo sommerso che costituisce una gran parte del mondo la parte meno conosciuta più grande e che molto ci affascina la parte dove lavorano i nostri nuclei dove lavorano i nostri subacquei il mare dunque come casa comune dalle Alpi alla Sicilia sembrerà strano ma così è sono felice di stare qui con voi in questo ambiente di mare anche se la maschera non è quella che si usa sott'acqua devo dire che è la prima volta che quando l'ammiraglio Pettolino mi ha chiesto di fare il calendario del 2021 io sono stato lusingato mi ho detto grazie ammiraglio però non me la sento sono 30 anni che faccio calendari e mentre all'inizio facevo lo slalom tra i pesci oggi faccio lo slalom tra i rifiuti quindi forse no poi però ho pensato perché si fanno le fotografie? non è che ho la belleità di salvare il mondo o gli oceani ma per cercare di dare un'altra percezione e allora questo calendario non era destinato ai miei amici o a un pubblico qualsiasi ma ai padroni di casa del mare ai più grandi conoscitori del Mediterraneo agli opinion leader e quindi mi sono detto sì ci sto davvero 12 straordinarie immagini mi fa piacere essere idealmente con voi oggi e portarvi la mia testimonianza il calendario guardia costiera 2021 è stato un progetto che mi ha entusiasmato sin dall'inizio ho cercato di mettere la mia professionalità la mia esperienza soprattutto l'amore per il mare i suoi abitanti ed il suo habitat un habitat che con le mie foto ho cercato di raccontare attraverso gli occhi della guardia costiera e dei suoi subacquei sono gli stessi occhi di chi ama immensamente questa grande distesa blu il plauso del governo vi saluto a tutti con grande affetto con l'affetto al quale forse vi siete anzi spero vi siate abituati quest'anno ci tocca presentare questo splendido calendario forse il più bello della recente storia della guardia costiera purtroppo da remoto perché questa pandemia ci impedisce di vederci di stare vicini di stare insieme ma forse vale la pena dedicare qualche minuto lontani alla riflessione sul perché è stata fatta una scelta come quella del calendario del 2021 e cioè quella di stare sott'acqua qui sott'acqua c'è tanto molto del cuore della ragione stessa dell'esistenza della guardia costiera nel nostro paese la difesa del nostro mare la difesa dell'ambiente e il salvataggio delle persone i proventi saranno destinati all'unicef per progetti di protezione dei bambini in tutto il mondo I beni culturali appartenenti alla regione siciliana che si trovano custoditi nei depositi regionali da oggi potranno essere valorizzati attraverso l'esposizione in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico lo ha deciso l'assessore regionale beni culturali di identità siciliana Alberto Samanà che con un decreto ribattezzato Carta di Catania autorizza soprintendenze parchi archeologici musei gallerie e biblioteche a concedere in uso per la valorizzazione e la pubblica fruizione il cospicuo patrimonio in giacenza nei depositi il decreto va scritto all'impegno della soprintendente dei beni culturali di Catania Rosalba Pavini che linea con i contenuti del decreto già aperto e cavo della regione per esporre nella sala pinacoteca del museo di Occesano di Catania le importanti raccolte urzi e nicolosi beni a cui si fa riferimento sono quelli acquisiti per confisca quelli donati o consegnati spontaneamente e poi quella di più vecchia acquisizione per i quali si è stata smarita la documentazione la reale cappella Santa Venera nella cattedrale di Occireale tra i siti di interesse in lista per entrare tra i finanziamenti che il FAI Fondo Ambiente Italiano ogni anno sostiene con la propria opera a salvaguardia recupero dei luoghi di interesse storico e culturale c'è tempo sino al prossimo 15 dicembre per sostenere l'iniziativa e restituire agli antichi splendori appunto la cappella di Santa Venera di Occireale la cappella di Santa Venera ammirabile esempio barocco con affreschi sacri di artisti locali nell'elenco dei siti del FAI Fondo Ambiente Italiano che ogni anno promuove il recupero e la salvaguardia di manufatti di interesse storico culturale e religiosa attraverso un finanziamento concesso sulla base del gradimento degli italiani che possono votare proprio il luogo del cuore in ambito nazionale ed è corsa contro il tempo per scalare la classifica dei siti destinatari a dei benefici economici e aggiudicarsi sostegno finanziario a tutela di un capolavoro unico di grande bellezza e venerazione la cappella che costudisce il busto reliquario della Santa Patrona di Occireale al momento è tredicesima e i promotori sperano di risalire ancora nel gradimento del pubblico e confidano di entrare almeno nei primi tre posti tra i siti di interesse nazionale destinatari del Fondo FAI recentemente anche l'attore Roberto Lipare si è unito al gruppo che sponsorizzano il recupero della cappella di Santa Venera con un appello a sostegno dell'iniziativa Cese in particolare oggi vorrei parlarvi di una meraviglia che è la reale cappella di Santa Venera ad Acireale città a cui sono legato perché è lì che ho girato il mio primo film ecco quest'anno partecipa al censimento del FAI luoghi del cuore e quindi può ricevere un finanziamento per un restauro è un'ottima occasione che non ci possiamo fare sfuggire dobbiamo votare entro il 15 dicembre affinché per l'ennesima volta nella nostra terra possa vincere la bellezza la cappella è oggetto dei piccoli lavori di restauro grazie a finanziamento comunale per i previsti festeggiamenti rinviati a causa del covid ed impiegati per il recupero degli astucchi e alla tamponatura a protezione degli affreschi più esposti all'umidità un piccolo ma significativo passo avanti verso il recupero del bellissimo sito che necessita di una minuziosa complessa quanto costosa opera di restauro Simona Postiglione è la presidente della deputazione della reale cappella di Santa Venera in prima linea nella costa salvaguardia del luogo con a fianco il vicepresidente Salvo Iannuri e i componenti della deputazione la reale cappella di Santa Venera è un bene preziosissimo che è di acireale di tutti gli acesi e quindi dobbiamo è il nostro impegno per poter tutelare la cappella perché ha bisogno di un restauro di un forte intervento in realtà qualcosina abbiamo iniziato già a farla con un piccolo fondo del comune ma non basta abbiamo sicuramente bisogno di altri contributi e sicuramente il FAI ci sta fornendo questa importante occasione di poter procedere con degli interventi di restauro quindi speriamo di poter salire sempre di più in graduatoria ancora 15 giorni per accedere al sito internet del FAI e votare con un semplice click il recupero della cappella di Santa Venera un capolavoro da tutelare a perenne memoria ci sono essenzialmente due modi per votare ancora per il FAI la nostra reale cappella di Santa Venera intanto la modalità online basta andare sul sito www.iluoghidelcuore.it del FAI cercare appunto la reale cappella di Santa Venera e in pochi semplici passi insomma con un click si può esprimere la propria preferenza altrimenti c'è la modalità cartacea è possibile qui in Basilica Cattedrale ma anche in altri punti che sono organizzati è possibile appunto lasciare la propria firma e fare la propria preferenza in questo modo e poi la deputazione della reale cappella provvederà al caricamento di tutti quelli che sono i voti sulla piattaforma del FAI e chiaramente come ci diceva anche la nostra Presidente siamo alle strette finali mancano le ultime settimane è semplicemente un piccolo passaggio una semplice operazione di voto pochi secondi ma è un piccolo gesto che esprime davvero tutto l'amore che possiamo avere per la nostra città e per la reale cappella che rappresenta non solo molto a livello culturale e religioso la nostra città ma da qui passa anche la storia dello sviluppo economico e culturale 10 Reale della tromba d'aria del nubifragio abbattutisi sabato scorso su Catania parleremo questa sera all'intervista con il segretario del Partito Democratico di Catania Angelo Villari che chiede uno stato di calamità cospicuo e significativo con l'esponente Dem ex segretario della CGL Etnea ci occuperemo anche dell'emergenza sanitaria e della crisi economica dovuta proprio alla pandemia da Covid dunque appuntamento alle 20.20 su ReTV canale 89 anche su Facebook e poi alle 23.30 con l'intervista e con l'intervento del segretario del Partito Democratico di Catania Angelo Villari rieccoci rieccoci nuovamente in diretta dopo la pubblicità sopra una notizia breve che arriva da Acireale più precisamente da Santa Maria La Scala frazione Santa Maria La Scala dove è stato registrato il crollo di alcuni massi nella zona delle cazzette non si registrano feriti sul posto ci sono già le autorità ci fermiamo qui dunque con questa notizia con la prima edizione di Ora Tg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestri in Sicilia di ReTV che avete seguito sul nostro sito internet sui nostri canali social al prossimo appuntamento con Ora Tg questa sera alle 19.45 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti le previsioni meteorologiche in Sicilia per la giornata di domani martedì primo dicembre nell'isola cielo sereno variabile in tutta la regione irregolarmente nuvolosa nella parte messinese dell'isola i venti saranno deboli da occidente con rinforzi lungo le coste ioniche i mari poco mossi quasi calmi le temperature saranno stazionarie su tutta la nostra regione 19 gradi a Catania e Siracusa poi 18 a Palermo Messina e Agrigento la temperatura più bassa è a 2 gradi centigradi a te Grazie a tutti.